L'altro ieri vi ho parlato dello straordinario risultato in termini di dividendi incassati nel mese di ottobre e già inizio a parlare di novembre e in particolare degli ETF, delle azioni e degli altri titoli che mi piacerebbe inserire nel mio portafoglio oppure di quelli che magari sono già in portafoglio e che mi piacerebbe andare a incrementare perché ovviamente non ci si può sedere sugli allori altrimenti il mio obiettivo di pensionamento a 50 anni va a farsi friggere Allora già da parecchio tempo mi piace condividere un approfondimento mensile sul mio portale Gumroad trovate tra l'altro il link nella descrizione a ogni video e siamo già giunti al numero 32 con quello di novembre 2021 pensate siamo al numero 32 quindi quasi tre anni di pubblicazioni devo dire che stanno riscuotendo un bel successo sono molto contento di riuscire ad accompagnarvi nel mondo degli investimenti chiaramente io lo dico sempre non si tratta di consigli per gli acquisti io cerco di fare nel mio piccolo formazione finanziaria poi chiaramente sulle basi di quanto dico è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni per decidere se un investimento fa il caso proprio o meno perché? Perché nessuno ha i miei obiettivi finanziari, nessuno ha il mio orizzonte temporale, nessuno magari ha il mio grado di rischio qualcuno potrebbe avercelo più alto, qualcuno potrebbe avercelo più basso e quindi se volete andare ad acquistare chiedo un piccolissimo contributo di 3 euro al mese ma volendo c'è anche la possibilità di fare gli abbonamenti trimestrali, semestrali o annuali per poter risparmiare e cosa c'è in questo approfondimento del novembre 2021? allora parlerò dell'andamento dei mercati, farò un breve commento mensile parlerò delle azioni con i maggiori dividend yield in Italia e fuori dall'Italia attraverso uno screening di investing proprio creato da me con parametri da me scelti poi elenco di tutte le azioni che staccano dividendi nel mese di novembre non tutte tutte ma comunque quelle più importanti, soprattutto sul mercato statunitense e tutte quelle del mercato italiano poi approfondimento su un particolare ETF che si espone ai pagamenti digitali che potrebbero rappresentare il futuro poi parlerò di crisi, di scorte e di approfondimenti, quanto mai di attualità in questo periodo e in più analizzerò un certificate particolare infine condividerò la mia watch list ma andiamo a vedere quindi nel dettaglio questo approfondimento allora, andamento dei mercati beh, che dire, in questa tabella c'è scritto tutto il Fuzzimib che nel mese di ottobre è cresciuto del 4,64% anche in Europa, bene, il DAX più 280, l'Eurostox più 5% meglio ancora gli Stati Uniti con all'incirca rialzi nell'ordine del 7% e pensate ragazzi che dall'inizio dell'anno le borse sono cresciute mediamente per percentuali tra il 14% e il 22% quindi crescite veramente elevatissime soprattutto poi se si vanno a sommare alla crescita che c'è stata da aprilile a dicembre del 2020 cosa accadrà nei prossimi mesi? ne parlo un pochino nel mio approfondimento e inoltre ripilogo un pochino quello che ho detto un paio di giorni fa sul mio canale YouTube quindi parlando di dividendi, di opzioni di quello che ho fatto nel mese di ottobre quindi non ho rinunciato neanche in ottobre a qualche acquisto volto a incrementare il mio portafoglio e anche in novembre non mi voglio fermare non mi voglio fermare come? allora, ovviamente andando a inserire qualche strumento sempre a distribuzione parlando delle azioni a maggior dividend yield ne propongo circa 30-40 quelle che hanno un dividend yield più alto secondo investing sono 1€ con un 13% ma non dimentichiamoci che quest'anno ha avuto un dividendo doppio abbiamo Unipol sia come Unipol Banca che come Unipol Assicurazioni con dividendi tra il 7 e 8% stessa percentuale per Banca Generali che tra l'altro distribuirà proprio fra poche settimane durante il mese di novembre andando invece negli Stati Uniti sicuramente non può passare sotto traccia Philip Morris con il suo dividendo del 5% abbondante Southern Copper un 6% per chi volesse andare sulla Cina China Love Insurance 5,44% e Zurich sempre rimane in tema assicurativo siamo a un 4,95% qui attenzione alla doppia tassazione svizzera poi tantissime altre azioni nella mia lista assolutamente da non perdere dividendi nel mese allora il mese di novembre è appena appena iniziato abbiamo già assistito alle distribuzioni di alcuni dividendi per quanto riguarda le azioni americane Realty Income ormai penso che la conoscano tutti un rate, un trust immobiliare con il suo dividendo mensile il primo del mese ha già staccato il dividendo poi ancora tra quelle più famose proprio giovedì 4 novembre staccano dividendo IBM, Intel, Pfizer insomma azioni famosissime che tra l'altro sono anche già nel mio portafoglio tutte e tre e che insomma almeno una di queste mi piacerebbe incrementare secondo voi quale tra le tre di IBM, Intel e Pfizer mi piacerebbe andare a incrementare? scrivetemelo nei commenti ma poi appunto ho detto che parleremo di un ETF sui pagamenti digitali proprio perché le tendenze convergenti quali il passaggio globale all'e-commerce l'uso capillare degli smartphone e anche nei mercati in via di sviluppo le politiche contro il riciclaggio di denaro vanno tutte nella direzione di guidare la transizione verso un'economia sempre più senza più contante valutato 58 miliardi di dollari americani nel 2020 si prevede che il mercato globale dei pagamenti digitali è visto crescere ha un tasso di crescita anno composto del 19,4% tra il 2021 e il 2028 quindi insomma questo ETF lo andiamo a sviscerare nel suo dettaglio analizzando insomma tutte le caratteristiche e la sua esposizione fortissima verso gli Stati Uniti con un 51% ma poi tantissimi altri paesi ovviamente il settore più esposto è quello dell'informatica con 83% ma anche la finanza con un 10% circa tra le azioni più rappresentativi di questo ETF troviamo Nouveia troviamo Green Sky troviamo Adyen troviamo Afterpain Green Dot Shopify PagSeguro Square International Money Express Insomma un ETF è sicuramente da andare a studiare e poi sempre in tema di ETF propongo anche la mia lista di ETF focalizzati sulla distribuzione di dividendi elevati sia azionari che obbligazionari tra questi il Vanguard All World penso che molti di voi già lo conoscano ne ho parlato anche in un video di un annetto fa circa eventualmente ci potrei anche tornare sopra attualmente distribuisce un dividendo del 2,82% a me piacerebbe acquistarlo a 47 euro adesso siamo a 54 dovrebbe scendere del 14% non è poco non è poco in quel caso distribuirebbe un dividend yield del 3,28% sicuramente più attraente dell'attuale 2,82% poi sotto troverete un'altra lista di ETF ma andiamo più nel dettaglio poi di questo approfondimento le scorte di le scorte di materie prime di beni e l'approvvigionamento sta subendo una crisi si parla tanto di semiconduttori di microchip gas naturali negli ultimi due anni il mondo sicuramente ha sofferto tutta una serie di shock lungo tutta la catena degli approvvigionamenti di materie prime intermedie e finite e quindi qui si parla proprio del cosiddetto effetto bullwhip oppure effetto frusta detto in italiano insomma verrà spiegato effettivamente cosa sta succedendo sui mercati certificates sapete che mi piace parlare anche di certificates ne analizzo uno in particolare sul settore auto perché con i trimestrali il settore auto sta mettendo in mostra gli effetti dello short-time chip ovvero la carenza di microprocessori che sono necessarie le auto di nuova generazione nonostante questo problema i titoli del settore automobilistico non hanno subito repercussioni degne di nota proprio sostenuti dalla crescita degli ordinativi caso eclatante diciamo Tesla con massimi sfondati anche negli ultimi giorni tuttavia non è possibile escludere eventuali picchi di volatilità anche perché ancora non è stato stimato quando la crisi dei chip avrà termine in questo senso per chi volesse investire sul settore aggiungendo protezione a una esposizione diretta sul SEDEX è negoziato un certificate cash collect di BNP Paribas con un airbag e vi andrò a spiegare come funziona vi vero l'eisen e tutto quanto poi chiaramente ognuno dovrà valutare se questo certificate va bene per il proprio portafoglio oppure no infine la tanto attesa lista delle mie azioni che voglio inserire in portafoglio e che voglio oppure che voglio andare a incrementare un listone lungo quasi tre pagine è fornita anche tra l'altro la password per poter accedere tramite il mio blog alla lista completa e aggiornata in tempo reale di questa watch list sarà possibile vedere anche una selezione di azioni tecnologiche una novità in questo senso una lista di reads di etf le dividend aristocrat le king e tanti dati aggiuntivi che per ragioni di spazio non riuscivo proprio materialmente a inserire in questo approfondimento e tra le prime tre ma non sono le prime tre diciamo per interesse sono semplicemente tra quelle che hanno il dividend yield più alto abbiamo un euro che la mia vista anche prima nella tabella di investing a me piacerebbe acquistarla vicino a 16 attualmente quando ho fatto questo approfondimento avevo una quotazione di 20,3 saremo distanti circa un 20% quindi dal mio prezzo desiderato però rapporto prezzo utili molto molto interessante payout buono soprattutto perché è calcolato sul dividendo doppio distribuito nel 2021 poi abbiamo ancora a Riotinto se ne parla spesso nella chat telegram se non ne fate parte trovate il link nella descrizione a questo video e poi British American Tobacco ero entrato un mesetto fa e l'azione è scesa un pelino ha anche distribuito ha anche staccato un dividendo che verrà distribuito durante il mese di novembre e ragazzi a questi prezzi io sinceramente ci sto facendo un pensierino di un piccolo incremento non so cosa ne pensate voi allora direi che siamo arrivati alla fine della presentazione di questo approfondimento mensile come detto se lo volete scaricare piccolissimo contributo di 2,99 euro trovate il link nella descrizione del video su Gumroad altrimenti chiedetemelo che ve lo metterò nei commenti se vi è piaciuto questo video se vi piace il mio canale fatemelo sapere con un like se siete nuovi iscrivetevi al canale stesso e come sempre io rimango a disposizione per qualsiasi vostra domanda per qualsiasi vostra perplessità e che magari mi potrete scrivere nei commenti a questo video un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao a presto Grazie a tutti.